I pennelli della serie Unico Off-White sono pennelli dalla fibra molto resistente, rigida e di buona assorbenza d'acqua. Si utilizzano soprattutto per quello che riguarda la movimentazione del colore grasso e pastoso e quindi sono consigliate per tecniche dove non sia necessaria una diluizione d'acqua. Per lo stesso motivo possiamo utilizzarli su fondi sia ruvidi che molto assorbenti, addirittura come le pareti. Il pennello Off-White è al massimo della sua resa nell'utilizzo di una tecnica con l'acrilico di colore molto pieno, denso e corposo. Possiamo addirittura utilizzarlo per miscelare ed applicare gel materici o colori 3D a spessore. Il pennello Off-White della serie Unico è ideale per l'utilizzo della tecnica dell'olio, proprio perché muove il colore in modo denso e pastoso lasciando le tracce pittoriche che sono proprio della tradizione della pittura e soprattutto della pittura impressionista. Una tecnica di diluizione che possiamo usare con Off-White è quella della diluizione dei pastelli ad olio con trementino o raggio minerale. Off-White riesce a spostare il colore completamente cancellando le tracce del pastello e creando così la profondità tonale che ci necessita per creare l'abbozzo del quadro nella tela. Non si altera con l'utilizzo di solventi o di diluente e mantiene l'esatta forma che ha nel tempo.